ciao a tutte oggi sono qui a farvi vedere il mio ultimo recupero praticamente ero dalla farmacista e stava buttando questo piccolo espositore di yodo zangola e allora io chiesto se me lo poteva regalare a me l'ho portata a casa e l'ho ricoperto tutto qua in parte e qua dietro con i wiki take questi scotch praticamente decorati ho coperto tutte le scritte che c'erano all'interno e invece sotto l'ho lasciato bianco perché è un cartoncino lucido quindi è anche facile da pulire nel senso se si fa polvere qua dove c'era l'espositore ci metto due fustelle ho messo due fustellatine a forma di cuore visto che io non ho una stanzetta per lo scrap devo sempre un po arrangiarmi a tenere il materiale in scatole scatolette e questo anche se lo metto su un mobiletto che ho in corridoio secondo me non stava male infatti ho fatto anche già le prove con tutti i miei timbrini quelli piccolini che possono sempre servire e mi è piaciuto l'effetto comunque di avere tutto a portata di mano e non cercarlo in una scatola spero che vi piaccia grazie a tutte ciao